Il dottor Piccioni, direttore dell'ipodromo di San Rossore, per la prima volta dei cavalli diversi in ipodromo? Sì, non è la prima volta perché già nel passato ci sono disputate gare di endurance, una in particolare l'anno scorso, organizzata insieme al Ministero dell'Agricoltura, è stata quella che poi ha posto le basi per quella di oggi. Devo dire che forse per la prima volta un evento di questa portata, insomma ecco, 217 cavalli, 18 paesi in gara, una presenza così massiccia degli Emirati Arabi, personalità di spicco, Sheikh Mohammed, Sheikh Hamdan, insomma ecco, questo forse è la prima volta. E' una cosa da ripetere? Per noi assolutamente, per noi questo era l'anno zero, era un tentativo di avvicinare, favorire e ristaurarsi di rapporti con paesi che hanno ovviamente da un lato una grande capacità di spesa, dall'altro una passione enorme per il cavallo a tutto tondo. Non sono i nostri, puro sangue inglese, i cavalli da corsa, però penso che a San Rossore, tra Ippodromo e Tenuta, trovino davvero un paradiso terrestre per i cavalli. Questo era stato definito nel passato il paese dei cavalli, pensiamo che lo sia anche ora, insieme al parco è stato possibile organizzare dei percorsi che tutti gli atleti hanno definito bellissimi, entusiasmanti, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda la scenografia. Si termina all'interno di un Ippodromo che non sta a me giudicare, io sono innamorato, ma insomma, io sono di pari. Sei da un'indiscrezione, avrete parlato sicuramente con lei e lo Sheikol Maktoum, anche di una collaborazione futura? Guardi, devo dire la verità, abbiamo parlato più volte oggi, e non ho mai voluto parlare di futuro e di proposte concrete. Per me l'obiettivo oggi era che godessero questa giornata e che si innamorassero di questo posto, quanto sono innamorato io. Poi sono convinto che se riusciremo a farvi star bene, a farvi vedere le cose come sono in realtà, qualcosa nascerà. Le idee ovviamente da parte nostra sono molte, però non era oggi meglio.